Buongiorno a pubblico maschile, buongiorno a pubblico femminile, sto guardando il cane fratello. Io sono scomparsa perché è arrivato il mio maschio, gli ultimi due giorni che ci vediamo poi lo rispedisco da dove viene e poi l'ultima volta che lo vedo, prima del grande giorno. Stiamo mangiando torte, stiamo mangiando menù, tutti ci regalano torte. Io sono scomparsa da internet quindi ovviamente non ho potuto rispondere a quello che è successo, niente. Ho visto la... mi hanno mandato a tale quale show, ho adorato, ho adorato. E cazzo, il trucco parruccio, ho fatto un lavoro pazzesco. Vabbè, tutto ciò, ovviamente l'ho guardato, è stato molto bello. E poi tutti mi hanno chiesto ieri perché il mio cavallo fosse bendato. E non è bendato ragazzi, si vedono tanto meglio che è una maschera anti-moschke. Vi sto rispondendo un po' a tutto. E poi... Comunque ragazzi, ieri ho notato su Twitter mi avete chiesto come mai ho litigato con Tommaso. Perché a quanto pare ieri è uscita fuori questa cosa. In realtà io non ho mai litigato con Tommaso, anzi sono una persona molto pacifica. Ed è veramente difficile litigare con me. E quindi questa è una cosa anche positiva. Cioè, del mio carattere ovviamente. E no, certamente io e Tommaso, quando facevamo Riccanzo, ci vedavamo molto più spesso magari per promozione, eccetera. Poi tra una cosa o un'altra, noi non è che ci fossimo sentiti ogni giorno. Cioè, non ci sentivamo ogni giorno. Però io non l'ho mai litigato. Cioè, non so se l'ho litigato con me, però io assolutamente, anzi commento. Quando posso io gli commento il suo profilo. Quando è stato il corona. Una roba su... Parlando di musica, il resto scompare. Io l'ho litigato. Parlando di Sanremo. No, no. Cioè, io... Parlando di musica, il resto scompare.